Importante notizia per il pubblico di Canale 5. Infatti, Mediaset ha preso una decisione su Verissimo e la conduttrice Silvia Tofanin è già stata avvisata di questo cambiamento improvviso. Nessuno si aspettava una scelta simile, ma i telespettatori ne hanno subito preso atto e devono abituarsi a questa novità in attesa. Verissimo avrà qualcosa di diverso a partire da questo weekend? Silvia Tofanin sarà stata sicuramente interpellata prima che venisse assunta la decisione ufficiale. confermata anche da un video apparso su Instagram. Nella presentazione delle due puntate del prossimo fine settimana è stata subito visibile questa modifica. Le puntate di sabato 28 e domenica 29 settembre sono ovviamente più che confermate nel palinsesto Mediaset. Ma a proposito dell'appuntamento domenicale, c'è una variazione sostanziale che comunque fa molto piacere al pubblico di Verissimo. Infatti, avremo l'opportunità di vederla di più del dovuto. Come ha constatato anche il sito Lanostratv, Verissimo durerà mezz'ora in più domenica 29 settembre. Infatti, invece di iniziare al consueto orario delle ore 16 e 30, lo start è fissato per le sedi. Questo ci fa intuire che la prima puntata di Amici 24 di Maria De Filippi finirà con un certo anticipo. Nella prossima puntata di Domenica in studio ci saranno per le interviste Manuel Bortuzzo, Rosalinda Cannavoe e Andrea Zenga, Gianni Sperti, Fabio Caressa e Benedetta Parodi.